oggi una ricetta brasiliana saupicão de frango o insalata di pollo semplicissima da fare qui come vedete ho delle carote grattugiate dove aggiungo qualche cucchiaio di maionese e del pollo sfilacciato metto anche le olive verdi ma vanno benissimo anche quelle nere un po di mais sale e pepe e mescolo tutto quanto in brasile c'è chi ci mette anche l'uvetta la mela verde e dei pezzettini di prosciutto cotto in questo caso non li ho messi però qualche volta anch'io metto questi ingredienti questa insalata va servita con delle patatine sticche volendo potete decorarla con una rosellina di pomodoro questa ricetta è molto popolare in brasilia e sicuramente la troverete in qualsiasi ristorante da noi è molto comune i ristoranti al chilo dove ognuno prende il proprio piatto mette il cibo dopodiché si va su una bilancia e si pesa e puoi fare questa cosa quante volte ne vuoi e paghi il peso diciamo del cibo e il salpicão è uno di quei piatti che è sempre presente nei ristoranti al chilo spero che la ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao